Ah, chi c'è Sara? Un nervoso mi stai facendo accennare, forza! Sono io oppure tutti gli altri stanno impazzendo? Ah, ancora ci pensi? Ti ho detto che dobbiamo vedere il lato positivo dello stare a casa! Stiamo scontando i domiciliari, quindi per legge potremo fare una rapina gratis! Non tocca una rapina! Ah, niente! Sto scendo pazza, veramente! All'estero addirittura, accanto non c'è assai carta ingienica che basta! Probabilmente perché la carta ingienica si può fare a buono! Mentre che il spaghetti difficilmente ti dice, puoi stugliare lo culo! Che cosa sta fanno lei? Sto fanno il jogging! Jogging! Il gioco è in cravatta! C'è scassare la dici! Cosa di noi ce le pazze! Senti una cosa, tu facciate la terza media, ma... Secondo ti è vietato... ...ire in campagna da solo, isolato, a con di risparmi? Credo di sì! Chi sta non ci vuol dire, per esempio! Ma ti ricordi quando ero in io alla discoteca, gli anni altrimenti non ne facevano trasere! E ora invece non fanno trasere a nulla a discoteca! Senti perché le cose stanno cambiando! Secondo me la ruota sta girando! Hai una sensazione positiva! Perché mentre tutti stanno uscendo pazzi, noi ci siamo abituati! Abbiamo una vita che siamo soli! Una vita che siamo disoccupati! Una vita che mangiamo la caritas! Noi altri siamo persone fortunate! Non capisci perché mangiate da niente! Con la drogana! Adesso fai assi! Fai la nostra esperienza! Ho conosciuto un curriculum in vita! E' che non voglio stare più così male! Saro ti prometto che appena rapo nei cagli ti porto a cogliere patate sotto lo suolo come piacettina! Maria quanto è vergine Giovanna te lo giuro! Io ti chiedo solo un po' di positività! Saro non ne vuole tenere a casa fino a Ferragosto! Vuoi capire? Chi può saperlo? A buttano, Sara! Ah! Non mi senti, non mi senti! Non mi senti! Non mi senti! A buttano, Sara! Ti senti! Oh!